Musica Las tecnologias de la informazione e della comunicazione specialmente combinadas con la logistica come è il obiettivo e il fondamento di questa compagnia non parecen specialmente attività importanti in un momento in cui non solo il nostro obiettivo è salire da crisi quanto antes sino anche il nostro obiettivo è cambiare il modello economico di nostra comunità ir a una economia ma sostenibile ir a una economia che sia capace di resistire meglio per i momenti di difficoltà a a a a a a a a Grazie a tutti